Il doppio successo con la Roma e la Saperdoria ha dato speranza ai tifosi rosa-nero, che ora credono nella salvezza. I supporter hanno incitato dall'inizio alla fine la squadra, nella partitella che si è disputata oggi al Barbera. Nell'allenamento contro una rappresentativa degli allievi, è rientrato Sorrentino, mentre si è messo molto in evidenza il solito Josip Ilicic, in splendida condizione di forma. Assenti Miccoli e Dossena, che non sono stati impiegati da Sannino nelle tre partitelle disputate. Sannino ha provato la difesa anti-Bologna, con Von Bergen al centro, insieme a Mugnoz e Aronica. Sugli esterni spazio a Garcia e a Morganella. A centrocampo, Rios, insieme a Barretto e Donati. In attacco, Ilicic e Dybala.